Ieri mattina, a Milano, in stazione centrale, un militare è stato aggredito al collo con un taglierino da un ragazzo di 23 anni. Il caporale scelto Matteo Toya, 34 anni, ha riportato una lieve ferita e non è in pericolo di vita. Mahamad Feteh, 23 anni, di origine yemenita, è stato immediatamente arrestato dalle forze dell'ordine. Mentre veniva arrestato, Mahamad ha urlato Allah Akbar. Il pool antiterrorismo di Milano sta ora indagando per capire se si è trattato di un attentato. Questo ennesimo episodio ha però riacceso i riflettori sulla situazione di visaggio che caratterizza la zona intorno alla stazione centrale. Sicuramente è una stazione molto pericolosa. Noi siamo universitari e comunque cerchiamo sempre di prendere il treno in delle ore di giorno perché di sera è pericoloso. C'è sempre molta gente comunque non raccomandabile, sia stranieri che comunque italiani. Sicuramente c'è gente per bene, c'è gente un po' meno per bene come in tutte, cioè come tutti. Anche ci sono comunque italiani che sono comunque pericolosi allo stesso modo. Io ho documentato un po' meno pericolosi, ma non ho lavoro. Non ho venduto droghi, non ho venduto in questo paese, perché in questo paese è un paese, non ho venduto le persone. E' pericolosi, perché non ho studiato le drogze. Tutti le persone hanno l'opportunità di andare a fare un po' meno pericolosi. E' pericolosi, perché sono qui. Perché sono da Somalia. Somalia è un paese che ha più problemi per il sistema politico e il sistema religioso. E' pericolosi, perché sono qui. Molte stazioni sono molti pericoli, soprattutto perché non sono presidiate bene. Quindi bisogna aumentare il controllo delle forze dell'ordine nelle stazioni e fare un po' di controllo preventivo e non andare sempre dietro le situazioni. Perché è già successo a Roma, pure qualche tempo fa, e c'è stato un grande clamore. Dopo un tempo, un mese, si è scordato tutto. Quindi l'intervento dello Stato dovrebbe essere più mirato all'inserimento di queste persone nella realtà. Perché sono tante persone che per circostanze fatti sono trovate in determinate situazioni e una seconda possibilità la meritano tutti. Quindi ci vorrebbero le strutture adeguate sia per interventi, per chi ha bisogno di un supporto psicologico, psichiatrico e chi ha bisogno solamente di un rinserimento, quindi un po' più di educazione, soprattutto nel mondo lavorativo. Perché riparte tutto dal lavoro. Quindi se non riusciamo a far ripartire queste persone dal lavoro, difficilmente poi riusciamo a togliere dalle strade. Penso che sia una cosa obrovviosa perché non dovrebbe neanche sentirsi dire una cosa del genere dal momento che non importa il lavoro, il mestiere di una persona. Ma bisogna riconoscere che comunque quella persona è effettivamente un umano, effettivamente una persona. Non penso che si debba generalizzare l'immigrazione e questa non è una cosa da generalizzare, è una cosa da vedere come a sé, ogni caso è a sé, è un caso a sé. E soprattutto non credo si debba imporre una restrizione, però un minimo controllo ci dovrebbe essere. Grazie. 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 Grazie.